Grazie a tutti Che piacere risentirla, il tema è quello dei taxi, noi ieri abbiamo sentito Uber, abbiamo più volte sentito anche l'Unione Artigiani e parlato con rappresentanti del Comune anche rispetto a questo incontro di Pisapia con i taxisti e questo benedetto numero unico. Qual è la posizione dell'Unione Artigiani rispetto a questa situazione? Noi partiamo dal presupposto che è in corso un'attività illegale da parte di Uber e comunque di questo sistema che non rispetta le norme in quanto specialmente Uber Pop che consente a chiunque privato di svolgere sostanzialmente attività di taxista senza le dovute autorizzazioni, licenze, patenti anche ponendo a rischio la sicurezza delle persone. A questo si aggiunge che anche Uber in generale spesso è uno strumento per violare le regole facendo svolgere l'attività di taxista a imprese di autonoleggio che non hanno la licenza per svolgere il servizio. Com'è il taxi c'è un servizio indistinto seppure su chiamata. A noi a questo sistema generale di illegalità pur comprendendo la necessità anche che il sindaco Pisapia e l'assessore Maranna hanno più volte annunciato di avere la necessità che comunque Milano sia una città moderna che sfrutti gli strumenti moderni e abbiamo risposto promuovendo e realizzando un'applicazione per smartphone, si chiama TaxiU, una società che si chiama Atirat che rispetta esattamente le regole, cioè consente all'utente di chiamare un taxi che sia veramente un taxi secondo le norme del regolamento comunale e le leggi nazionali e regionali. Crediamo che sia un miglior sistema di da un lato sfruttare le nuove tecnologie e dall'altro rispettare le regole. Quindi un impegno per non eliminare il concetto che a molti cittadini piaceva di poter utilizzare la tecnologia per poi usufruire di un servizio, sostanzialmente questo. Esattamente, noi l'abbiamo chiamata tecnologia con il rispetto delle regole. Uber è tecnologia senza il rispetto delle regole e la nostra è tecnologia con il rispetto delle regole. Quindi si coniuga la tecnologia e il rispetto delle regole. Grazie, ieri abbiamo dato voce per correttezza anche a Uber e loro si sono dichiarati assolutamente non fuori dalla legalità e hanno dato voce alla loro motivazione e questa sera invece giustamente abbiamo sentito la voce dell'Unione Artigiani con Marco Accornero con questa proposta, con questa nuova proposta e la diffonderemo con piacere. Grazie, Cornero. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Allora, torniamo in studio e riprenderei con macchia i temi guida che abbiamo toccato con Gaffuri del PD perché entrambi fate parte del Consiglio regionale della Lombardia e abbiamo parlato di Malpensa, questo era l'ultimo tema poco prima che lei arrivasse, ma anche di questo lungo Consiglio regionale di martedì che ha visto insomma tutta la vicenda intorno a Mantovani e all'impegno per rivedere insomma la situazione legata alla sanità. Allora, da dove vogliamo partire? Partiamo dall'Italia, Macchi. Dall'Italia? Da Alitalia, Malpensa, Etihad. All'Italia, Malpensa, Etihad. Allora, che dire, io arrivo da Varese, quindi le problematiche di Malpensa... Le conosce bene a prescindere, lei dice. Esatto, le conosco bene a prescindere perché abbiamo una situazione veramente difficile. Regione Lombardia aveva approvato ai tempi anche un master plan prima di arrivare alle problematiche di tipo occupazionale di Alitalia. Però nella fattispecie Malpensa è stata fatta una grande Malpensa, Malpensa 2000. abbiamo delle piste che sono la seconda pista che è sfruttata non completamente e nonostante questo ci viene proposto ed è stato approvato in Regione Lombardia un master plan che propone una terza pista e... Per i viaggi lo costa o non c'entra niente? No, non c'entra niente. Loro era stato detto che era per i cargo. Ah, perché? Sì, dicevano, cioè Malpensa in teoria dovrebbe, nelle intenzioni sembra che debba essere trasformata in un aeroporto cargo. Però, quello che diciamo noi, allora, ci dovrebbe essere una linea conseguenziale, logica, nelle opere pubbliche che vengono fatte. Se vengono fatti dei trasporti, per esempio la ferrovia per i passeggeri, vengono fatte delle piste per degli aerei passeggeri, viene fatto un aeroporto per i passeggeri, spendendo milioni di euro, non può poi questa cosa improvvisamente passare a un'opera che diventa oltretutto ammazzando la nostra brughiera da un punto di vista ambientale, perché sarebbe un disastro quello del master plan, con centinaia di migliaia di metri quadri di capannoni legati... Al cargo, alla movimentazione delle merce e non dei passeggeri. Allora, era stato detto che la destinazione poteva essere di qualsiasi tipo, anche commerciale, fuorché quella residenziale. Adesso sembra che sia stato corretto questa parte, cioè che l'Enaca abbia proposto, perché è tutto bloccato a Roma e congelato a Roma. Quindi non si sa. Ci sono delle... È stato svuotato completamente Case Nuove, che è una frazione di Somma Lombardo. Le case sono state acquistate e svuotate, dicendo che erano comunque case non abitabili. Peccato che adesso ci abbiano fatto delle scuole e ci siano degli alberi. Quindi non è chiaro qual è... A Lunate Pozzolo anche lì sono state acquistate delle case per l'aeroporto, adesso sembra che siano rimesse in vendita. Non è mai chiaro quello che succede con Malpensa. Vengono date delle cifre compensative che poi non si sa quando vengono date e come vengono date. Domani avremo la tappa appunto a Malpensa con i consiglieri della provincia di Varese, con Maroni e con i sindaci dei comuni che insistono su Malpensa e parleremo di tutte queste problematiche. Quindi ci dovremo riaggiornare perché questo è il vostro appuntamento. Domani ci sarà anche la risposta a sala, sull'Expo, la risposta a Maroni. Tanto attesa per questo Expo. Noi abbiamo più volte parlato del Movimento 5 Stelle rispetto alla vostra posizione, ma all'oggi, quindi al di là di quello che era il punto di partenza, voi vi siete schierati in consiglio con Maroni rispetto a questa tirata di orecchie al governo centrale oppure no, sui tempi? Sui tempi, allora, quello che diciamo, comunque siamo in ritardo. Non pensiamo che si riescano a finire, cioè che l'Expo venga finito, ma soprattutto tutte queste infrastrutture che vengono iniziate in gran fretta, cioè hanno iniziato pochi giorni fa la Romunza, dicendo che in teoria dovrebbero riuscire a finire. Una volta iniziata potrebbe essere questo il passaggio Gafuri. Cominciamo, non si sa mai, come quando all'interno dell'avitazione diceva se non sposto mai la roba non funziona, invece cominciamo e poi dopo una volta iniziato si dovrà finire per forza. Come dicevo precedentemente, buona parte delle infrastrutture non verranno realizzate. Io penso che bisogna concentrarsi sul sito Expo e sui collegamenti collegamenti col trasporto pubblico, perché in questo momento mi sembra sinceramente la priorità. Sul dopo Expo è lontano perché non abbiamo neanche l'Expo, o è invece la chiave di volta? È la chiave di volta, ma certo. È certo che è la chiave di volta. Allora, il problema del dopo Expo, questo parco tematico che viene sempre proposto, anche lì la problematica del dopo Expo è in mano direttamente al Presidente Maroni. Il dopo Expo è un grande punto interrogativo, nel senso che è stato richiesto di fare delle proposte in linea di massima, ma in realtà, probabilmente, a nostro avviso, avevano le idee già molto chiare quando si sono proposti per Expo, su che cosa poter fare, sui terreni e la zona esatta dove farla. Noi siamo sempre stati contrari a concentrarla, perché è un'area, perché sarebbe stata una grossissima occasione. Noi siamo d'accordo, attenzione, sfatiamo una leggenda metropolitana, non siamo contrari a Expo come Expo. Anzi, ritenevamo che fosse un'occasione straordinaria per muovere, a livello però di tutta la regione, se non di tutta Italia, perché Expo comunque è un Expo internazionale, mondiale, non è l'Expo di un buchino, di un posto, ma diffusa e soprattutto sostenibile, visto che si parla di cibo e di sostenibilità del cibo e dell'alimentazione a livello mondiale. Sarebbe stata un'ottima occasione, cosa che non è stata sfruttata. Mose, Venezia, ha revocati i domiciliari a Orsoni, concorda il patteggiamento a quattro mesi, ma torna a ricoprire la sua carica, pur restando indagato per presunte tangenti e finanziamenti illeciti. Allora, su questo interviene Grillo all'attacco e dice Renzi è bugiardo, perché manda a casa Mineo, e torniamo alla sospensione dei cattolici senatori, cioè all'autosospensione, e tiene Orsoni, letta da mandato ad avvocati a tutela onorabilità. Cosa ne pensa di queste dichiarazioni di Grillo? Sulla non coerenza di Renzi, che nel rispetto del suo voto e del ricevuto, quindi nel voto di Dalliani come diceva prima, non lascia in mano l'Italia alle scelte di Mineo, però lascia sindaco a Venezia Orsoni. Oppure bisogna essere garantisti. Lascia sindaco a Venezia Orsoni? Dice Grillo. È da vedere. Dice Grillo. Fino ad oggi Orsoni... Anzi, è proprio del bugiardo. Orsoni era agli arresti, ha deciso lui, in termini giudiziari, di patteggiare. Penso che difficilmente sia sostenibile il fatto che uno ritorni a fare sindaco dopo aver patteggiato, dopo una vicenda di questo tipo. Ah, lui è convinto. È lui Orsoni. Che Orsoni possa essere convinto, però... Non mi dimetto, proprio detto papale papale. Visto che comunque la maggioranza glielo danno le forze politiche in Consiglio, penso che sarà molto difficile che rimanga a fare sindaco. Ah, quindi dice... No, perché lui è convinto, convinto. Tornerò a fare sindaco a tutti gli effetti. Mi sono fatto molti nemici, questo lo sapete, ma non mi dimetterò e questo è solo uno scotto che sto pagando, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbè, un suo commento. Comunque è chiaro, chiarissimo. Staremo a vedere. Allora, il commento è quello che noi continuiamo a dire. Qui tutti sono garantisti. Fra un po' non avremo più persone che potranno garantire per le altre, perché saranno tutti coinvolti ancora un po'. Cioè noi non ci stupiamo più ormai di chi viene coinvolto e neanche del fatto che comunque le persone si sentano autorizzate a mantenere, al di là del bene e del male, quelle che sono in posto, perché ormai... questo è un rischio grossissimo. I cittadini stanno diventando quasi un'abitudine. Quello del fatto di dire... Potrebbe essere legato anche all'assenzionismo, questo certo, perché uno dice una volta cioè io posso aver votato questa persona perché prima non sapevo, non credevo, non immaginavo. O magari non sarà, lo rivoteremo se mai, ma al momento... Quello che dicono sempre anche a noi... Non ci sono le condizioni oggettive per le mie dimissioni. Non ho personalmente nulla da rimproverarmi. Aspettiamo, si chiama dignità. Le condizioni oggettive in questo caso si chiamano avere dignità e onestà intellettuale. Ci dobbiamo fermare. Questa è la voce di Paola Macchi, Movimento 5 Stelle. Abbiamo appena sentito anche Luca Gaffuri, PD, entrambi impegnati in Regione Lombardia. pubblicità e poi di nuovo in diretta insieme. Le consultazioni online per il Movimento 5 Stelle legate alla scelta dell'impegno dei loro voti in Europa. Ci sono state delle polemiche, ne abbiamo parlato nel pomeriggio, proprio per l'esclusione dei verdi da queste opzioni. Bene vince Farange, quindi come scelta da parte dei militanti, la differenza è di 23 mila voti su 9 mila, le alternative erano ECR e non iscritti. Vogliamo commentare chi meglio di lei, Macchi, questa scelta molto discussa non dal popolo del Movimento 5 Stelle, ma in generale la figura di Farange come uomo così che non ci si immaginava di fianco al Movimento 5 Stelle. Cosa vi accomuna? Allora, ci accomunano, diciamo che non abbiamo trovato l'alleanza ideale. È il meno peggio. Esatto, mettiamola così. Perché non i verdi però? Che forse no. No, con i verdi non... Allora, i sette punti che abbiamo portato noi erano fondamentalmente basati sul fatto del liberarci dal potere delle grandi banche. e questa per esempio è una delle cose che ci accomuna con Farange, che effettivamente ha questa parte anche nel suo programma, diciamo, ha portato avanti questa parte del suo programma. Chiaramente, come dicevo, è il meno peggio. Purtroppo l'ultima possibilità è quella dell'essere non iscritti, quindi di non mettersi in un gruppo di 40, sappiamo che per avere una certa influenza in Europa... Certo, non iscritti sarebbero stati... Non iscritti sarebbero stati... Un gruppo misto che non aveva potere. Esatto, questo poi, voglio dire, non è che con questo siamo sposati, attenzione, è ben diverso, abbiamo sposato... Però è la prima storica alleanza del Movimento 5 Stelle dopo aver fatto penare tutti i partiti italiani. Lì non c'era scelta però. È diverso. Non c'era scelta. No, 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 le ha detto il meno peggio. Esatto, questa è la scelta, il meno peggio, il problema delle alleanze era una cosa ben diversa. Qui porteremo avanti delle nostre istanze e porteremo avanti quelle che possono essere delle istanze condivise con loro e quindi poi vedremo, diciamo, in itinere. D'altronde hanno scelto le persone. Questa è la cosa importantissima. Anche se molti erano delusi del fatto che hanno potuto scegliere senza la presenza dei Verdi che magari qualcuno avrebbe gradito. Così leggo dalle notizie, insomma, e dalle dichiarazioni, per esempio, del deputato Iannuzzi, eccetera. I Verdi, d'altronde, hanno fatto una dichiarazione abbastanza precisa sul fatto di non voler incontrare Grillo perché comunque loro hanno sempre lottato come Farange. purtroppo c'è ancora una mentalità per cui si guarda ancora a uno schieramento secco di destra e di sinistra. Credo che i Verdi, cioè, non so, si portino ancora avanti un po' questa cosa. Noi guardiamo generalmente nel merito di alcune scelte, alcune battaglie. Come dicevo, anche a livello personale, questo è... Questo è, insomma. E questa è la scelta. E noi abbiamo dato... Questo è un portavoce e ci adattiamo alla maggioranza. Certo, abbiamo dato conto di questo risultato che si attendeva proprio un'ultimissima ora perché sono arrivati i risultati di questo voto online. Un PD che invece ha decisamente tutte le carte in regola per poi dire la sua all'Europa. E come la vede questo percorso europeo? Vabbè, le elezioni europee penso che nessuno poteva pensare che potessero andare meglio di come sono andate per quanto riguarda il Partito Democratico. Perché c'è tanta voglia degli italiani di credere che qualcuno faccia qualcosa? Sì. In Europa? È stata data ampia fiducia a Matteo Renzi e al Partito Democratico. Da una parte a Matteo Renzi per l'attività di governo. Dall'altra parte il Partito Democratico perché in un momento così di profonda crisi è stato visto come il partito più solido e questo ha premiato anche a livello europeo perché alla fine nel Partito Democratico all'interno del Partito Socialista e Democratico Europeo rappresenta la maggiore forza per cui avrà la possibilità anche di incidere notevolmente. Io resto dell'idea che è corretto presentarsi agli elettori rispetto alle alleanze presi. Prima. Cioè quello che io non discuto più volte l'abbiamo chiesto al Movimento. Non discuto sull'alleanza con Farange evidentemente si troveranno più vicini a Farange e a questa alleanza anche se mi sembrava un po' imbarazzata la consigliere a Macchi rispetto a questa alleanza. Dichiarato. Però secondo me era corretto che lo dicessero prima delle elezioni dicessero che questa era la loro volontà che il modo per incidere in Europa era quello appunto di questo tipo di alleanza in modo che i cittadini nel momento in cui esprimevano il loro voto potevano saperlo. Questa è l'opinione di Gafuri. No, noi invece porteremo avanti comunque i nostri sette punti. La cosa che abbiamo fatto noi è prendere e presentare quelli che saranno i sette punti che porteremo avanti e successivamente le persone hanno votato nel merito quelli che era il programma del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda i risultati delle elezioni io ero rappresentante di lista al seggio e la cosa che mi ha veramente lo dico in radio perché spero che ci ascoltino tante persone giovani portavano le persone a votare sulla sedia a rotelle. Ho visto tantissimi anziani portati dai figli comunque anziani perché gli anziani sono grandi vecchi e invece ho visto pochissimi giovani completamente cioè il risultato di queste votazioni europee è stato il risultato di votazioni fatte dall'Italia delle persone oltre, ben oltre la mezza età i giovani completamente assenti mi chiedo e mi domando come mai perché quando tu sentivi i giovani i giovani ti dicevano io voterò Movimento 5 Stelle mi domando perché i giovani non vadano a votare e lascino che il loro futuro non lo decidano loro. Il vostro gap non raggiunto che sembrava essere più alto questa sfida con il PD invece questo buco è stato legato all'affetta di astensionismo legata ai più giovani. in prima persona quindi qualcosa avrete sbagliato nella comunicazione perché altrimenti sarebbero venuti non penso saranno tutti al mare probabilmente allora io non se nelle strade nelle piazze la risposta c'era io non non so che cosa cioè perché è una riflessione da fare è una riflessione sì sì stiamo chiaramente riflettendo su questa cosa anche se comunque il nostro 21,6% ci sta bene nel senso che adesso nessuno può più dire che è un voto di protesta come fu è un voto diciamo almeno questa percentuale che non è poco è confermato. Allora mi sembra sinceramente strano che alla fine la colpa sia degli elettori che non vanno a votare o che vanno a votare solo alcuni cioè alla fine serve un esame di coscienza cioè fondamentalmente gli italiani hanno giudicato un'azione di un anno del Movimento 5 Stelle non hanno condiviso in particolare il fatto che non si siano messi in gioco di governo e di possibilità comunque di indirizzare un'azione di governo in una situazione in cui potevano essere decisivi 30 secondi perché devo chiudere non perché non glieli voglio dare o non glieli voglio dare a Luca Gaffuri purtroppo il problema è che siamo al 57esimo posto per la libertà di stampa e quello che facciamo non passa quindi i giornali che non sono in mano nostra ma che sono contro di noi perché noi vogliamo tagliarli i finanziamenti in modo da lasciare che siano veramente liberi non passano mai quello che facciamo di cosa ne facciamo tante se per passare noi dobbiamo fare delle alleanze per appoggiare persone di cui non condividiamo sicuramente l'atteggiamento nel passato allora questo devo chiudere chiarissimo chiarissimo il messaggio fuori 5 secondi lasciamo lì nel loro brodo va bene allora Paola Macchi Movimento 5 Stelle grazie di essere stata con noi buon lavoro in Regione grazie a voi e grazie buon lavoro grazie a voi grazie a voi